buongiorno a tutti quanti eccoci di nuovo insieme in questo ulteriore momento di riflessione io ringrazio coloro che sono già in prima linea nella come spettatori di questa di questa diretta e quindi diciamo che veramente ciò mi rende particolarmente orgoglioso perché appunto si cerca anche di di realizzare in orari inconsueti in giorni dell'anno inconsueti magari chi che in vacanza chi è afflitto dal caldo e non si riesce a dormire la notte quindi magari si 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 rotola ancora tra le lenzuola eccetera e quindi diciamo che invece 13 stoici alle 6 e 46 già sono collegati per ascoltare quello che ho da da dire io quindi io andrea ronchetti sempre presente ma non non ne avevamo non ne avevamo non ne dubitavamo nel senso andrea ormai è diventato si può dire il il portiere colui che apre proprio diciamo che o colui che in qualche modo arringa arringa le folle nel 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 tipo di 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 approccio che ci stiamo ci sia ci siamo dati a parte gli scherzi allora oggi una un video particolarmente diciamo eh vario nel senso che ho intitolato eh la la diretta con le relazioni diplomatiche Badoglio Hitler il ventotto luglio quarantatré mh in realtà ve ne leggerò tre di documenti e quello di eh di Badoglio è solo il terzo e anche il meno lungo ma vista la sua importanza la sua rilevanza il fatto che il ventotto eh di luglio tra l'altro tre giorni dopo quindi non è non è non è se neanche premurato di di essere così tempestivo nella eh nella nello scrivere mh e quindi diciamo che capite bene pure che vi è una tempistica al senso ti avviso ma eh perbacco quanta gente eh ma qui siamo 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 diventati un un luogo di 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 un certo livello cioè mica mica siamo il il treno per Foggia cioè scusate abbede pazienza quindi qui abbiamo veramente un un pubblico selezionato un pubblico eh che 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 offre qualità e quantità detto questo eh dicevamo ehm quindi vi leggerò tre tre passi tre tre documenti che sono tutte e tre ovviamente riferibili a un discorso quindi io ringrazio tutti quelli intanto che voi entrate eh nella conversazione io vi vi saluto eh faccio adesso in maniera onnicomprensiva e mh sono due tre documenti dicevo che in qualche modo ci danno una una specificità un una prospettive diverse ma sempre legate a a un percorso politico che guarda ai tedeschi guarda agli alleati guarda internamente perché è poi c'è la situazione interna che non è che possiamo ometterla nel senso noi siamo tanto interessati a capire cosa l'Italia eh proiettivamente riesce a fare nei confronti degli alleati eh nei confronti eh della ehm dei tedeschi eccetera o dei neutrali ma anche internamente vi è sicuramente una una attenzione un una specificità per quanto riguarda gli equilibri interni perché il governo Badoglio non è così omogeneo non è così eh stabile non è così ha una voce sola rispetto a quello che si va a fare e allo stesso tempo con una serie di attività collaterali soprattutto nell'ordine interno si parlava delle delle opposizioni delle manifestazioni che magari appunto si pensava che la il popolino che volesse la fine della guerra subito tutto maledetto e subito il senso che vogliamo uscire dalla guerra subito abbiamo fatto trenta facciamo trentuno eh magari c'è chi conosce sappiamo da da documentazione di come la comunità ebraica chiedesse l'abolizione delle leggi razziali che era una richiesta legittima eh visto il consigliato che erano delle leggi fasciste e il fascismo non c'era più Badoglio ovviamente traccheggerà farà orecchia da mercante anzi si attarderà ben dopo eh la eh la partenza per la Puglia sapremo che bisogna attendere gennaio quarantaquattro una cosa veramente veramente eh inconcepibile detto eh detto questo allora eh il primo documento che io vi 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 leggo è un eh telescritto dell'incaricato d'affari a Berlino Fecia di Cossato quindi sempre lui al ministro degli esteri Guariglia Berlino ventotto luglio quarantatré ore zero trenta a mezzanotte e trenta Fecia di Cossato scrive a Guariglia vediamo cosa gli scrive la prima impressione suscitata in Germania sia fra le masse che nei circoli dirigenti dall'annuncio dei mutamenti governativi italiani è stata unanime l'Italia si preparerebbe con questi a ritirarsi dal conflitto quindi abbiamo un ulteriore passaggio eh della eh della temperatura berlinese quindi in qualche modo abbiamo avuto l'altro 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 comune gli altri comunicati in cui si parlava di dichiarazioni ufficiali di smentite qui invece abbiamo proprio la l'analisi del polso della situazione quindi la polso della situazione dice l'Italia sta uscendo dalla guerra mentre tale impressione permane provocando tra il pubblico uno stato di abbattimento e demoralizzazione non disgiunto da segni di nascente risentimento quindi abbiamo preoccupazione timore ma anche un certo risentimento sappiamo come i tedeschi gli italiani non è che li supportino molto bene c'è sempre questo elemento di odio amore non ultimo le dichiarazioni di ieri no della della giornalista nonché consorte di della di Giorgia Meloni che ha risposto al ministro tedesco cioè in Germania in Italia fa caldo non venite rimanete a casa vostra quindi ecco come anche nei giorni nostri questa attenzione questa sorta di battibecco tra Italia e Germania si fa sentire anche attraverso le come si chiama il first man non lo so first eh gentleman non lo so come si chiama il marito della della premier non so come si può la first lady il first gentleman comunque quindi eh cominciano a delinearsi dopo un giorno di disorientamento reazioni e indicazioni sull'atteggiamento di questo governo nei confronti della nuova situazione quindi eh la eh c'è la cosa è reciproca sì la cosa è riciclo diciamo da 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 Lutero in poi ma forse anche prima di Lutero eh bisogna andare un po' anche indietro nell'odio atavico tra Germani e e Romani e quindi se le masse popolari invidiano forse una soluzione che che qui appare impossibile per la diversa costituzione statale negli ambienti responsabili nel partito la crisi italiana è considerata un fatto di gravità eccezionale capace di ripercussione di incalcolabile importanza per la Germania e per il regime quindi c'è anche da una parte una invidia invidia gli italiani sono riusciti a fare quello che noi non riusciamo a fare cacciare il dittatore e questo pensate che lo dirà pure Canaris nei giorni dopo quando si incontrerà a Venezia magari poi lo recupereremo qualcosa su questa cosa è importante l'incontro a Venezia tra Canaris e a me tra il capo dei servizi segreti militari tedeschi e il capo dei servizi militari italiani e Canaris dirà a me mi congratulo per quello che avete fatto proseguite quindi non a caso Canaris poi sarà implicato l'anno dopo nel fallito attentato di Hitler del 20 luglio 44 quindi diciamo capiamo bene come ci sono degli elementi anche che tornano che si inseriscono first comrade non sono sposato giustamente hai ragione hai ragione anche anche la forma è la la sua essenza quindi capite bene come vi è un atteggiamento di di ambiguità di di attenzione eccola però non mi viene in mente qualcosa di meglio di attenzione di controllo occhio perché sei controllato alla formulazione di tale giudizio concorrono in primo luogo l'impressione che la scomparsa di un regime pur sempre considerato precursore del nazismo e ritenuto più opportunamente ed indissolubilmente legato da un comune destino abbia privato il Reich itleriano del più valido appoggio internazionale capite capite in secondo luogo la sensazione che il mutamento di governo in Italia sia destinato attraverso sviluppi che qui si considerano inevitabili a mettere in pericolo l'intero equilibrio strategico dell'Europa meridionale e sud orientale aggravando forse irreparabilmente la situazione militare del Reich quindi qui si evidenzia anche non solo una preoccupazione di tipo politico ma soprattutto una preoccupazione di tipo militare il fronte sud che noi abbiamo un po' snobbato ammettiamo i tedeschi l'hanno snobbato sono anche forse consapevoli adesso ce ne stiamo preoccupando perché perché per quanto labile per quanto inefficace per quanto intempestiva comunque la presenza italiana in qualche modo ostruiva almeno solo a livello figurativo eh l'avanzata un'avanzata una penetrazione angloamericana eh in questi circoli politici straspare abbastanza palese l'opinione che l'equilibrio del conflitto potrebbe essere in futuro ristabilito solo mediante un compromesso con la Russia sovietica compromesso che Mussolini aveva chiesto con insistenza a Hitler da diversi mesi e che Hitler li aveva sempre rimandato al mittente eh poiché tale compromesso non appare qui ora raggiungibile ed è pertanto ritenuto inevitabile il prolungamento del conflitto nelle sue attuali gigantesche proporzioni si considera interesse primario del Reich porre il fianco meridionale della fortezza germanica al riparo da un minaccio visto che la pace con la Russia non si può fare bisogna trovare una soluzione al fianco meridionale accanto a motivi di ordine sentimentale la cui importanza di influenza sull'amico del sull'animo del Führer bisogna guardarsi dal sottovalutare sostistono adunque consegnazioni di ordine politico e strategico che inducono la a resistere a scusate a ritenere la vista così si annebbia a ritenere che l'attuale marcato riservo manifestato dagli organi ufficiali della stampa germanica nei confronti del nuovo governo italiano e delle sue dichiarazioni di lealtà possa preludere a una più perentoria richiesta di chiarimenti nei riguardi delle nostre intenzioni nel senso che la Germania non si fida però lo dice pure nel senso che non è che lo lo fa solo intendo cioè dice ma siete veramente sicuri abbiamo in qualche modo sentito da dalle parole di Kestling che rivolgendosi ad Ambrosio dice sì vabbè ma voi di fatto cosa volete fare da grandi un elemento che colpisce fortemente i dirigenti nazionalsocialisti è l'informazione secondo cui Mussolini non si troverebbe in libertà sono pur molto eh notate talune manifestazioni della stampa italiana che non si troverebbero in linea con i recenti proclami quindi c'è ma cosa è successo cambiato il governo Mussolini non si trova non sappiamo dov'è eh c'è un certo fermento anche a livello sociale anche a livello di eh di eh opinione pubblica eh non sembra che il dispositivo militare sia cambiato quindi qualche modo c'è una certa rilassatezza morale e materiale beh i tedeschi sono assai preoccupati il duce in Italia divideva il potere insieme al re e il papa mentre Hitler non aveva nessun pari o sopra di lui è certo questo è il grande la grande differenza diciamo che le scuole di pensiero che dividono la eh che non classificano come totalitarismo il fascismo lasciando il termine totalitarismo solo al nazismo e al comunismo staliniano pongono l'accento sul fatto che il fascismo sia solo si fa per dire una dittatura e non un totalitarismo o un autoritarismo e non un totalitarismo perché perché c'erano eh dei freni freni che si identificavano sostanzialmente nel sovrano e nel papa eh l'atteggiamento tedesco eh nei nostri riguardi nella presente fase può essere definito di attesa Badoglio un viscitone andava dove tirava il vento ritengo tuttavia mio dovere segnalare a vostra eccellenza che mentre nei rapporti personali ed in te ed esterni e nelle manifestazioni giornalistiche vedi i telegrammi eh quelli pregressi quelli che abbiamo già letto eh i giorni ieri e i giorni precedenti si dimostra correttezza nei nostri confronti si eh si è in realtà profondamente scossi dagli avvenimenti italiani e che secondo talune informazioni si starebbero vivamente esaminando misure da prendere questa frase è indicativa eh quindi dice i tedeschi si a chiacchiere dicono tutto bene siamo sempre fraterni amici ma in qualche modo stiamo preparando qualcosa perché non ci fidiamo il Führer tiene radunati presso di sé già già da due giorni a quanto risulterebbe in ambienti ben informati i maggiori suoi collaboratori con i quali sta consultandosi e diciamo ciò non è sicuramente cosa buona e poi dicono che il fascismo e il razzismo siano la stessa cosa no questo no hanno delle caratteristiche peculiari e questo va va non perché si possa fare una una classifica di chi è peggio chi è meglio sono solo cose diverse quindi in qualche modo le differenze vanno 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 poste hanno poste anche per per andare a capire le specificità perché se no si pensa dice no sa la stessa cosa Mussolini si è fatto coinvolgere fino al 38 era una brava persona ha fatto tante cose belle eh non ha mai fatto male a nessuno va bene proseguiamo sempre il 28 da Parigi alle ore 12 e 30 il i 45 giorni di Badoglio una grande occasione sprecata per cercare di sistemare le cose in vista dell'armistizio ebbene sì esatto ecco qui abbiamo sempre Ivano cuffie e nuova lezione mentre si annaffia l'orto bene grazie e quindi abbiamo da Parigi il 28 luglio alle ore 12 e 30 presenta il plenemodinziario politico a Parigi buti al ministro degli esteri guariglia quindi vediamo un po' cosa viene riferito da Parigi spero che Giovanni me lo permetta neanche una mela e un melograno non sono la stessa cosa è certo Luigi tu qui sei il padrone qui vedete qui tu sei il decano come ho sempre detto il canale dei 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 non neanche gli ospiti che non è dei guest star ecco dei guest star di questo canale qui diciamo che a te tutto è lecito peccato che il termine totalismo sia stato coniato da Salvemini per descrivere la permeazione del fascismo in ogni ambito della vita civile poiché il re e il papo fossero dei poteri eh referenti sì diciamo allora il discorso è ampio e si è evoluto non entro nel discorso anche perché se ci sentisse eh Emilio Gentile non dissentirebbe perché per Emilio Gentile il il anche il fascismo è stato un totalitarismo subito eh o almeno abbastanza presto quindi diciamo che ho offre ho ho partecipato io non ho mai fatto esami con Emilio Gentile nonostante Emilio Gentile abbia sia sia stato abbia fatto parte della commissione mia di di laurea quindi diciamo sono stato ha fatto anche una domanda all'epoca però ho ho assistito a esami che ha fatto a dei miei amici qui questi miei amici dicono ma ma il fascismo non era un totalitarismo li ha bacchettati gli ha fatto dice no non è così quindi diciamo è un discorso molto ampio forse sarebbe meglio distinguere il fascismo da mussolinismo cosa si è diverso e qui apriamo altre parentesi troppo troppo troppa roba troppa roba però noi parliamo un'altra circostanza vediamo cosa ci riferisce Budi da Parigi a Guariglia ehm mio telegramma trecentottanta non pubblicato eh anche oggi stampa francese pubblica con grande risalto notiziario notiziario relativo situazioni in Italia giornali sottolineano nei titoli nei testi le due frasi del programma del proclama del maresciallo Badoglio cioè la guerra continua e l'Italia mantiene fede alla parola data mancano anche oggi commenti ad eccezione di una breve nota editoriale della Pariser Zeitung e di un breve commento della V industriella ehm sempre riferito a un telegramma che non è pubblicato giornali riportano altresì frasi di commento dell'agenzia Reuter e della radio americana scelte col chiaro proposito di dimostrare che anche da parte anglosassone si considera immutata la posizione dell'Italia nei nel conflitto in tutti gli ambienti francesi e tedeschi gli avvenimenti italiani continuano a suscitare vivissima impressione eh la grande maggioranza del popolo francese li ha accolti con evidente compiacimento soprattutto nella presunzione che il cambiamento del governo preluda all'uscita dell'Italia della guerra abbreviandone grandemente la durata e agevolando in definitiva la futura posizione della Francia gli ambienti collaborazionisti di ABC e qui si mostrano invece preoccupati e in attesa di ulteriori sviluppi sottolineano la frase del programma del maresciallo Badoglio relativa alla continuazione della guerra ehm analoga all'atteggiamento ambienti collaborazionisti quelli degli ambienti tedeschi civili e militari traspare dai primi contatti una viva preoccupazione per l'avvenire e cioè non soltanto per il futuro atteggiamento italiano ma anche per le ripercussioni che gli avvenimenti del venticinque luglio potranno avere nei paesi alleati od occupati specie nei Balcani nonché sul morale del popolo germanico quindi abbiamo anche a Parigi una certa eh una certa preoccupazione seppur declinata in modi diversi fin dal maggio del quarantatré dopo la caduta dell'Unisia la Germania aveva pianificato l'operazione Axe per occupare l'Italia nel caso di una sua uscita della guerra sì questo è esattamente così quindi diciamo che eh qui abbiamo la prova evidente eh di come eh non fu la caduta del fascismo l'arresto di Mussolini eh la eh la la condizione eh la condizione necessaria e sufficiente per un eh un impegno maggiore tedesco in Italia ma ciò era già pianificato abbondantemente da diverse settimane quindi in qualche modo abbiamo anche una eh evidenza di come eh lo sbarco in Sicilia abbia prodotto l'inevitabile da ambe e due le parti tra la parte da parte dell'Italia che non si poteva più reggere una situazione insostenibile a livello politico in attesa di una modificazione anche di tipo eh diplomatico militare dall'altra e abbiamo però una constatazione di come i tedeschi avessero già previsto tutto in qualche modo o almeno sì avevano previsto tutte le possibili mh ipotesi. A questo punto arriviamo al clou dei documenti di oggi con questo ehm questo messaggio trasmesso da Badoglio alla capo del gabinetto diciamo diciamo è stilato da Badoglio e inviato dal capo di gabinetto Babuscio Rizzo all'incaricato di affari a Berlino con l'incarico di inoltrarlo immediatamente a Hitler. Allora questo è un comunicato eh Roma ventotto luglio quarantatré ore venti Badoglio il capo del governo Badoglio alla cancelliere del Reich Hitler e vediamo cosa comunica Badoglio a Hitler. Sono passati tre giorni dalla sera del ventitré alla sera del ventotto. Eh col giuramento nelle mani di sua maestà il re e imperatore imperatore senza impero il consiglio dei ministri da me presieduto si è oggi insediato gli ha atteso le formalità di rito Badoglio dice io devo attendere il giuramento il consiglio dei ministri non mi posso così mandare a Hitler un comunicato senza una eh una piena autorevolezza di fronte alle istituzioni come già dichiarato nel mio proclama rivolto agli italiani ufficialmente comunicato al vostro ambasciatore la guerra per noi continua nello spirito dell'alleanza tanto alleanza scritto anche maiuscolo tanto tengo a confermarvi con la preghiera di voler ascoltare il generale Marras l'addetto militare a Berlino che verrà al vostro quartier generale da me incaricato di un particolare di una particolare missione per voi vedi documento 575 e 579 che vi leggeremo via un po 575 quando lo leggeremo 575 tutto qua programmato 575 e 579 sì questo ve lo leggerò il il 30 e sono del 30 quindi fra due giorni quindi fra due giorni vi leggerò questa cosa di Marras quindi rimanete ancorati anche qui mi è grata l'occasione per porgervi Führer l'espressione dei miei più cordiali sentimenti i più cordiali sentimenti pensate se non erano cordiali proprio dei miei cordiali sentimenti proprio cordiali eh se non erano cordiali pensate un po' come come potessero come potessero essere in questa comunicazione assai stringata in cui Badoglio con la sua come è stato definito prima aspettate Badoglio un viscidone andava dove tirava il vento eh sì andava proprio anche a omaggiare Hitler di questa situazione non voglio difendere Badoglio ma chiedere la resa subito sarebbe stato un suicidio per lui e la monarchia a fine luglio la Sicilia non era ancora liberata i nazisi sarebbero subito vendicati eh sì il punto è permettimi io sono d'accordo con te su tutto che non si poteva il 26 luglio uscire dall'alleanza e rompere con i tedeschi uscire dall'alleanza rompere con i tedeschi e fare la pace con gli angloamericani però 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 considerando che l'otto settembre la situazione non è che sarà tanto migliore dico beh hai aspettato 45 giorni qual è il risultato punto di domanda e qui arriviamo secondo me alla di fronte a questa questa domanda potremmo anche chiudere qui ma Alfieri in tutto questo dove è finito? Allora Alfieri lo abbiamo lasciato eh questa è una domanda che mi 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 stuzzica parecchio Alfieri che già era particolarmente poco poco eh contento di stare a Berlino cioè ha capito quando subito quando ce l'hanno mandato a Berlino ha capito che non tirava una bella aria senza una situazione abbastanza asfittica in cui nessuno se lo filava lui pensava di andare lì a fare sto parlando nel 40 no? Cioè andava lì a fare il il gaga faceva un po' il ciano il ciano in trasferta eh guardate che passo io eh facciamo un po' di banchetti un po' di 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 pubbliche relazioni eh donnini allegre eccetera eccetera invece ho trovato una una situazione drammatica con il paese che era comunque in guerra la Germania con bombardamenti con una situazione in cui c'erano i razionamenti in cui non si poteva fare nulla di di quello che era un po' la 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 vita d'ambasciata secondo lui e quindi già già mordeva il freno è stato per tre anni a mordere il freno poi Hitler era libero e troppo nessuno se lo filava quindi quando poi si è avuto risalimento nervoso e si si nascondeva non è vabbè quindi quando poi il 24 di luglio era a Roma per il Gran Consiglio del Fascismo e lui ha partecipato alla seduta votando l'ordine al giorno grandi ha capito che tirava una brutta aria e quindi non torna a Berlino è rimasto a Roma è rimasto in Italia adesso non mi ricordo esattamente dove dove è andato però poi alla fine forse è andato a Milano lui era milanese e poi ha avuto la la buona idea di prima dell'8 settembre di scappare di scappare di arrivare in Svizzera di andare in Svizzera e salvo salvo la vita quindi diciamo che si è defilato ha capito che tirava una brutta aria e ha capito molto meglio di Ciano Ciano che lo prendeva sempre in giro no perché Alfieri non era un fome di guerra non era un cervellone nel senso non che lo fosse neanche Ciano era furbo non era intelligente Alfieri non era né furbo né intelligente era non lo so è in un momento di partito ha detto forse è meglio andare in Svizzera e gli è andata bene quindi diciamo si è salvato quindi capite bene come le relazioni interessante come appunto non è un caso che le comunicazioni da Berlino arrivano da fece di costato che è l'incaricato d'affari quindi non è nell'ambasciatore cioè c'è un ruolo medio quindi ecco come le relazioni le le tiene più Marras Marras che l'ha detto militare quindi capite bene come vi siano eh le ambascerie che vengono fatte a a a Hitler da parte dell'ambascia della dell'addetto militare quindi la situazione a Berlino nell'ambasciata italiana è un problema quindi diciamo io vi rimando sempre a quel libro molto molto interessante che è sulla l'amposto italiano a Berlino lì come si chiama con quel volume eh sui ambasciatori che di cui ho parlato qualche qualche giorno fa un libro di là adesso non lo prendo molto interessante quello è veramente eh esplicativo eh di come vi sia il passaggio dei tre ambasciatori ehm Attolico ehm eh Alfieri e poi il terzo non me lo ricordo quello del periodo della Repubblica Sociale quindi diciamo che sicuramente è una 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 fotografia anzi più che una fotografia un album di fotografia molto 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 efficace di come la situazione a Berlino fosse discontinua fosse in balia degli eventi si capiva benissimo come l'alleanza era trazione tedesca e quindi l'Italia subiva subiva e l'ambasciatore aveva degli oneri impressionanti doveva riferire a Ciano a Mussolini su situazioni che non conosceva doveva arrampicarsi proprio sugli specchi eh però in quarantacinque giorni tedeschi sono riusciti a concentrare i truppi in Italia nonostante le scappole le scopole prese a destra e Badoglio ha lasciato tutte le guarnigioni sparse nei Balcani senza consegne né ordine sì e questo è quello che dicevamo nel senso che la situazione è andata eh volendo peggiorando non migliorando rispetto al 26 luglio quindi diciamo che neanche una visita al Salun Chitti e che cos'è il Salun Chitti non lo so un andiamo un po' Salun Chitti cos'è un un locale ah è un film di tinto brass una casa di tollerà ah ecco una casa scusate non lo so più ma magari forse sì quella quella non si nega a nessuno insomma bisognava rendere bisognava fare Mussolini accettava anche gli sciocchi accettava anche eh i pavidi l'importante che a letto facessero il proprio dovere che lui dava l'esempio quindi questo è sicuramente un elemento tipico del macismo italico Alfieri ha usato l'istinto della lucertola ha percepito il pericolo e il subcefalo da rettile lo ha salvato questa penso sia la migliore definizione di Alfieri perfetto mi sei piaciuto Davide peccato che già ho scritto la biografia l'avrei messa questa questa frase questa la mettevo proprio c'è un incipit io in ve li ho letti poi in caso mai ci torneremo sul mio volume i gerarchi fascisti ho messo una frase per ciascun gerarca no quindi non so quello quello dice quell'altro se dovessi fare una ristampa permetti mi metterò la tua fa la tua frase Davide Felici Alfieri ha usato l'istinto della lucertola ha percepito il pericolo e il subcefalo da rettile lo ha salvato questo è sicuramente è proprio da incorniciare questa sua questa parla del libro di Luca Falanga esattamente esattamente mi sfuggiva il il nome eh esatto questo li ho parlato almeno un video un video che ho fatto recentemente quindi il libro di Falanga è sicuramente questo vi dico anche il titolo originale Falanga Berlino vedi vedi Luigi è sempre una 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 spanna sopra a tutti allora l'avamposto l'avamposto di Mussolini nel Reich di Hitler la politica italiana a Berlino 33 54 con la eh i ah no sono sono quattro sono quattro gli ambasciatori Vittorio Cerruti Bernardo Tattolico Dino Alfieri e Filippo Anfuso Filippo Anfuso tra l'altro che era stato il braccio testo di Ciano all'epoca della eh della ehm del suo incarico come ministro di affari esteri e mi ricordo Anfuso c'è una frase bellissima una frase bellissima di Anfuso riferibile all'aprile del trentanove quando si è andato a fare l'impresa in Albania e dice lo sbarco italiano in Albania si è contraddistinto da da urla grida disorganizzazione gente che che si buttava in acqua che quasi quasi affogava una situazione veramente caotica sarebbe bastato che gli cito a memoria che gli albanesi avessero avuto anche una sola brigata di pompieri bene armata e ci avrebbero ributtato a mare questa è una frase di Anfuso stupenda Badoglio che si limita a dire a Hitler che l'alleanza permane come diresti tu e scusazio non pedita e scusazio non pedita accusazio manifesta eh sì e questo è la proprio la l'avamposto di Mussolini esatto bravo Luigi grazie Luigi buongiorno per chi è per chiedere la resa bisognava trovare gli accordi anche con i nazisti altrimenti la fuga non sarebbe riuscita cessering la permessa eh su questo tema quello di cessering diciamo è un temone pure quello diciamo che c'è la la il grande dibattito su questo poi chiudiamo chiudiamo che ho sempre l'impegno della dell'autobus ehm sì è un tema molto ricco potremmo tornarci potremmo tornarci all'indomani dell'otto settembre perché c'è questo dibattito no sul fatto che è possibile che eh eh tutte le strade eh intorno a Roma fossero presidiate e il convoglio del re trova la Tiburtina Valeria libera anzi libera fino a un certo punto perché verranno fermati da posti di blocco Umberto ne racconta gli sviluppi cioè ci hanno fermato poi ci hanno fatto passare quindi questa cosa è un po' sospetta dall'altro vanno verso l'Abruzzo ma non potevano andare a prendere Mussolini cioè mandavano qualcuno a prendere Mussolini e se lo caricavano pure loro su Baionetta quindi qualcosa puzza sicuramente di questa situazione io onestamente la mia opinione personale è che eh non vi sia ripeto la mia opinione personale non vi sia stato un accordo formalizzato un accordo ehm esplicito d'out des ci eh tu Kessering permetti la nostra uscita da Roma la nostra fuori da Roma e noi ti permettiamo l'occupazione celere in dolore della città di Roma eh non sono convinto questo questo scambio secondo me è più un tacito accorta tacito una tacita convenienza ecco il senso che noi ce ne andiamo e lui ottiene e Kessing diceva io gli permetto di andare non glielo dico gli permetto di andare via così se ne vanno e non ci sta più autorità politica a Roma ehm l'ultimo l'ultimo Salonchitti la casa di tolleranza super sorveglia della Gestapo cosa sarebbe detto Alfieri alle donnine allegra e spiedere la Gestapo non oso immaginarlo eh non oso immaginarlo neanche io ma chiudo con un eh un interessante mh riferimento adesso ve lo trovo c'è il lo sceneggiato quello su Roatta che chissero fosse perso ehm la la fuga del genere Roatta di Thomas Sherman questo dove c'è anche una scena quando quando eh questo per chi lo lo volesse recuperare ehm la fuga di Roatta di Thomas Sherman aspettate che ve lo schifo proprio la ecco questo qua ve lo levo lo trovo questo qua che sta su YouTube si trova su YouTube gratis diciamo senza troppe difficoltà e dove c'è appunto quando Roatta era addetto militare a Berlino nel trentanove e sono delle scene un po' alle grotte con delle signorine con delle signorine eh disponibili di cui tra l'altro ho fatto anche la recensione quindi diciamo che ehm vi faccio pure la mia recensione così se vi interessa eccolo qua c'è anche questa mia ma aspetta eh ecco questa è la recensione che ho fatto io di dello sceneggiato di Sherman su Roatta quindi diciamo potete vedere come volete voi prima recensione mia e poi eh recensione lo sceneggiato o viceversa ma il trenta è domenica è anticipato domani come anticipato ma io ho detto proprio ieri che questo canale funziona 365 giorni all'anno qui siamo siamo sul pezzo non è che c'è domenica così non c'è il calendario qui anche perché domani abbiamo altre cose da lei io ve lo devo dire domani domani è allora aspetta questo questo abbiamo già letto questo abbiamo già letto esatto quindi domani ci abbiamo vi leggo quello che il programma eh qui mi restiamo a pettinare le bambole allora domani abbiamo 29 luglio il capo di gabinetto Babuscio Rizzo al ministro degli esteri guariglia eh dici dita scrivi scrivi quindi che ci abbiamo Babuscio Rizzo che fa una sorta di resoconto di quello che è accaduto non male poi ci abbiamo eh Prunas sempre da Lisbona a guariglia Morganti a guariglia da Inisbruck ecco questo è importante che gli dice sto vedendo che qui passa passa roba e altre cose e poi il trenta abbiamo eh da Madrid a guariglia Prunas sempre a guariglia Fecia di Costato a guariglia e Marras eh a ehm a Badoglio e guariglia quindi diciamo che capite bene che c'è un un certo fermento quindi qui diciamo tutti i giorni contingentati non è che possiamo stare eh poi ripeto la domenica non non la domenica se sta a Dio che si ripeto io qui sta a continuare a lavorare e quindi possiamo qua eh non si può mica fare cose cose particolari ehm va bene io poi eh leggerò la il consiglio qui di Epopea Risorgimento detto questo io come al solito vi ringrazio vi invito come al solito a mettere mi piace iscrivetevi qui c'è le foto le foto o se che si togliamo le foto se non si vedono cose cose eh cose che eh dicevamo eh mi piace iscrivetevi al canale eh il primo bagnetto di mia figlia niente di di trascendentale eh mi piace iscrivetevi al canale mi raccomando guardate le playlist guardate lo sceneggiato su Roatta eh più di dite dite in giro qui siamo arrivati quasi a quattromila iscritti capito grazie per il buon inizio di giornata eh la giornata è lunga oggi venerdì meno male che è venerdì ieri 27 perché ha preso lo stipendio è bella giornata oggi 28 è venerdì giornata ancora più bella detto questo quindi mi piace iscrivetevi al canale a domani alla prossima ciao ciao